Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2013 è stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento e ammodernamento del porto Peschereccio, nell'importo complessivo di circa 1.143.000 euro. Suddetti lavori sono stati confermati nel programma triennale dei LLPP 2016-2018, elenco annuale 2016 dei lavori pubblici, in considerazione delle vigenti nuove discipline legislative in merito ad appalti pubblici, gli atti contabili inerenti al progetto esecutivo di tali lavori sono stati aggiornati e trasmessi dall'UTC, al fine di poter adeguare gli stessi elaborati per poter usufruire dello strumento finanziario comunitario denominato FEP, Fondo Europeo per la Pesca. Considerata l'importanza degli interventi in questione, viene proposto di riapprovare il progetto esecutivo dei suddetti lavori, la cui copertura finanziaria esoterà mediante finanziamento FEP Campania. Inoltre viene fatta richiesta di confermare l'ingegnere Agostino Sica, quale responsabile dell'area lavori pubblici del Comune di Agropoli, responsabile unico del procedimento, e di emanare al RUP ogni provvedimento conseguenziale per l'attuazione dell'intervento.